buona giornata amici da massimo fogheti oggi è veramente una bella giornata il tempo dovrebbe restare sereno un po su tutta la regione ci sono qualche ci c'è qualche nuvola che di passeggera comunque che non dovrebbe perturbare la giornata oggi è giovedì 6 ottobre 2022 ed ora sono le 7 02 quindi iniziamo subito la nostra rassegna stampa guardando i giornali con cronaca locale il resto del carlino è il corriere adriatico vediamo intanto l'almanacco del giorno il santo che si festeggia oggi lo vediamo qui nella grafica è san bruno di colonia un santo tedesco che però operò molto anche in italia ebbe fama di eccellente filosofo e teologo visse dell'undicesimo secolo fondò l'ordine dei certosini amò la vita solitaria la vita in solitudine dimostrò grande santità e un straordinario sapere era un uomo colto i suoi discepoli poi raggiunsero delle cariche perfino il papato di grande appunto importanza vediamo anche le previsioni del tempo oggi della grafica sulla regione marche eccola qua ecco vediamo il sole con qualche nuvoletta comunque la giornata è una giornata anticiclonica tempo stabile asciutto un cielo leggermente offuscato da nubi alte in transito le temperature massime arriveranno ai 24 ai 25 gradi le minime ai 16 gradi sulle coste il vento spirerà da una direzione da ovest sull'interno invece con una tensione debole da nord est le temperature sono sempre in calo il mare è poco mosso ed ora apriamo il giornale iniziando dal resto del carlino si parla subito di quel campo agri voltaico che dovrebbe sorgere nelle piane anzi nelle colline di carrara fronte comune contro il parco agri voltaico seri chiama la società i residenti ai ripari c'è un fronte comune tra il comune di cartoceto quello di fano la provincia contro questa realizzazione il sindaco parlerò anche con il proprietario del terreno abbiamo visto ieri come il proprietario e taus interviene anche la provincia l'emergenza energetica non giustifica tutto ebbene sì siamo in carenza di produzione di energia elettrica le fonti alternative sono il settore individuato per correre ai ripari ma occorre anche salvaguardare l'ambiente soprattutto la vivibilità delle persone un incontro con la tep renewables la società che vuole realizzare il parco agri voltaico sulle colline trafano e cartoceto e poi anche con l'imprenditore roberto taus disponibile a cedere i terreni di sua proprietà questa è la richiesta urgente che è stata evidenziata dal sindaco massimo seri dopo che si è diffusa la notizia della realizzazione di questo mega impianto per il quale sarebbe previsto un investimento considerevole da 36 milioni di euro un progetto ribadisce seri a cui siamo contrari non permetteremo di ferire ancora una volta la zona di carrara ha dichiarato e anche l'amministrazione di cartoceto corre ai ripari lo vediamo qui in questo articolo non confondiamo l'ecologia con la mera speculazione è una dichiarazione del sindaco enrico rossi il quale ha indetto una assemblea pubblica per domani alle ore 21 al bar giunto in via sant'anna 159 riguardanti appunto il progetto del parco agri voltaico di 45 ettari tra le colline di di fano e cartoceto insomma è a mezza strata tra i due comuni e nei pressi di carrara l'incontro ha detto rossi vuole illustrare ai cittadini l'impatto del progetto che la società ha depositato al ministero della transizione ecologica motivare la posizione di netta contrarietà del comune di cartoceto e presentare il punto sull'iter autorizzativo insomma non si vuole che il ministero con la sua autorità poi approvi il progetto contrariamente alle aspettative dei cittadini è una partita importante quella che si sta giocando ci sono diverse opportunità di investimento nel nostro territorio ma tutte hanno destato delle perplessità e vedremo anche poi come sta per partire il cantiere il grande cantiere della cantieristica progettato dalla wider nel porto di fano anche questo ha destato delle perplessità delle contrarietà in consiglio comunale tuttavia non si può ostacolare appunto tutte le iniziative che vengono fatte a favore della economia pestaggio per lo smalto con danne pesanti questo è un articolo di cronaca che riguarda un episodio venuto non molto tempo fa nei pressi della rocca malatestiana a fano sono stati aggrediti due giovani per il loro aspetto uno aveva un ciuffo biondo quell'altro aveva uno smalto alle unghie e ad aggredirli sono stati dei personaggi appartenenti a un gruppo di giovani che frequentava la zona si tratta di due marrocchini dunque un processo bis sul pestaggio alla rocca per lo smalto alle unghie con danne più severe per due della gang che nel maggio del 2021 avevano rapinato e aggredito due pesaresi tre anni e sei mesi di carcere a rida busidi il ventenne marocchino accusato di avere fratturato il naso a un eondito a simone pasquino che aveva fatto da scudo col suo corpo per difendere l'amico luigi lupini preso di mira dalla gang di otto ragazzi tra cui anche diversi minorenni perché aveva le unghie laccate e il ciuffo biondo due anni poi e due mesi a venti giorni e invece la pena inflitta ad ashraf al keir anche lui ventenne originario del marocco questi due personaggi avevano già ricevuto una condanna in un altro processo in prima istanza ma era una condanna più mite infatti busidi aveva avuto poco più di due anni mentre al keir un anno e otto mesi questa volta invece il giudice è stato più severo e ha aumentato le pene ai due ventenni l'episodio aveva fatto molto molto scalpore per il modo in cui si trattavano i giovani che avevano tutto il diritto di apparire come volevano e poi i giornali questa mattina fanno una anticipazione una anticipazione rispetto alla formalizzazione del nuovo incarico di giunta per quanto riguarda il comune di fano in merito alle dimissioni di fabiola tonelli che è assessore alla viabilità e ai lavori pubblici ebbene la sostituta che entrerà in giunta al posto della tonelli e cora fattori il suo nome era stato fatto in passato tra quelle papabili entra in giunta ma la maggioranza però perde i pezzi sappiamo come ci sono dei problemi di coesione all'interno della maggioranza di centro-sinistra che regge il comune di fano soprattutto per quanto riguarda la tenuta del partito democratico la consigliera subentra tonelli intanto un consigliere che era in maggioranza giampiero pedini passa al gruppo misto e il sindaco è debole ha dichiarato valuterò le proposte che saranno presentate dalla giunta di volta in volta quindi non è un'adesione piena per quanto riguarda l'operato dell'esecutivo e veniamo ora un po più nel particolare per quanto riguarda il nuovo assessore cora fattori in rappresentanza di più europa sarà il settimo assessore della giunta seri dopo le dimissioni della tonelli oggi ci dovrebbe essere l'ufficializzazione della nomina a cui seri potrebbe affidare l'ambiente e la viabilità questo a cora fattori mentre i lavori pubblici dovrebbero passare a barbara brunori che già si occupava di parte dei lavori pubblici al posto di fattori in consiglio comunale eletta appunto nelle liste di insieme e meglio poi passata con marchigiani nel gruppo azione più europa in consiglio dovrebbe subentrare filippo borioni cora fattori ha detto il sindaco anzi no il sindaco sindaco cora non ha parlato perché vuole ufficializzare lui stesso oggi la nomina lo ha detto il consigliere stefano marchigiani che con cora fattori ha collaborato è una bravissima persona comunque il segretario regionale del partito ha fatto sapere al sindaco che non si può considerare in quota ad azione sappiamo come azione più europa si siano divisi e quindi la posizione politica della nuova del nuovo assessore insomma non è più quello che era inizialmente e sempre ieri le consigliere comunale della lista civica del sindaco noi città giampiero pedini ha ufficializzato il suo passaggio al gruppo misto dove si ritrova insieme a marchigiani a stefano marchigiani perché con fattori assessore il gruppo azione più europa ci scioglierà quella di seri ha detto pedini è una giunta timorosa che non osa e dove non si decide mai niente seri una persona che stimo molto serie per bene ma troppo permessiva e democratica bisogna vedere se questo è un difetto o è un pregio a favore appunto del sindaco comunque anche giampiero pedini ha preso una sua risoluzione e quindi avrà un atteggiamento diverso ora nei confronti della giunta giriamo pagina e vediamo ecco la posizione del nuovo cantiere della wider in merito a quella zona quell'ampia superficie della cantieristica che è rimasta per tanto tempo brulla nel porto di fano eccola qui nella fotografia che rende bene in evidenza questa superficie tra il porto peschereccio e il porto turistico il porto peschereccio da una parte il porto turistico dall'altra una simbolica posa della prima pietra alla darsena 18 mila metri quadrati pronti ad accogliere lo stabilimento si è partiti dunque con le fondamenta e ieri è stata posta simbolicamente la prima pietra del nuovo cantiere nell'area della darsena un atto simbolico che ha visto la presenza anche del sindaco massimo seri insieme allo stesso fabio fraternali che è l'amministratore delegato della wider opere da considerarsi propedeutiche alla realizzazione del cantiere per il quale prosegue di pari passo anche la procedura burocratica con gli enti e con in prima fila l'amministrazione comunale non è più quel grande cantiere alto 24 metri che si era progettato inizialmente il progetto è stato ridimensionato comunque sarà importante e questa area brulla incolta degradata diciamo così così per tanto tempo al lato della passeggiata dell'esibbo avrà una nuova immagine ed ora passiamo ad urbino perché anche ad urbino c'è stato rimpasto di giunta sappiamo come il vice sindaco guidi aveva rassegnato le sue dimissioni e al suo posto è entrata l'avvocato francesca fedeli nuovo assessore urbinate all'istruzione avrò filo diretto con gli amici della regione ha dichiarato gambini le ha affidato la delega all'istruzione fedeli appartiene alla lega la giunta comunale di urbino è di nuovo al completo dunque con l'ingresso di questo nuovo assessore nominato dal sindaco gambini dopo l'uscita di massimo guidi e la nomina a vice sindaco di marianna vetri il sindaco gambini aveva tenuto per sé le deleghe vacanti quindi ieri è stata ufficialmente nominata la fedeli che era stata già candidata con la lega per le regionali delle duemila e venti quindi un rimpasto per quanto riguarda l'amministrazione comunale della città ducale e passiamo anche a cantiano perché voglio farvi e voglio dare evidenza all'appello del sindaco alessandro piccini ebbene cantiano è stata una delle località più colpite dalle raccenti alluvioni la popolazione è stata messa in ginocchio e ora serve un aiuto di qui l'appello del sindaco che scrive alla regione aiutateci subito la parola subito è importante perché queste persone sono così messe nell'astrico subito non è che possono così risorgere tra un mese o tra un anno hanno bisogno di assistenza subito e la parola subito è importante il sindaco ha scritto ieri una carata lettera al presidente della regione Marche Acquaroli ai suoi assessori e tutti i consiglieri regionali per dire che servono aiuti a fondo perduto immediati sono oltre 50 le attività di impresa tra piccoli esercizi commercio artigiani compromessi dall'alluvione alcune di queste con capacità produttive del tutto azzerate quindi veramente hanno bisogno di un aiuto immediato diamo un'occhiata anche le pagine pesaresi del resto del carlino e qui abbiamo un ultimatum della croce rossa che vanta un credito importante nei confronti dell'asur Marche pensate sono un credito sono le buste paga dei dipendenti che risalgono a diversi mesi fa pagate gli arretrati o blocchiamo i servizi e questa è la risoluzione a cui è giunta la croce rossa per coprire i ritardi con cui l'asur manifesta i suoi obblighi è partito dunque l'ultimatum all'asur o pagate o dal 12 ottobre cessa la convenzione ad inviare una lettera senza appello sono la croce rossa della provincia e non solo loro perché si minaccia il blocco dei servizi perché da tre anni da tre anni l'asur non paga e ci sono arretrati come il caso di pesolo che ha 80 dipendenti più i volontari che lavorano gratuitamente e che vanta un credito che si avvicina a 300 mila euro intorno ai 60 mila il comitato di marotta che ha 15 dipendenti ebbene a scendere poi con tutti i comitati piccoli grandi sono con l'acqua alla gola e questi questi volontari che poi percepiscono una sciocchezza insomma non è che che hanno un grosso una grossa ricompensa ebbene sono con l'acqua alla gola il blocco dei pagamenti pare sia dovuto alla mancanza di una firma da parte di un funzionario quindi veramente sono quelle qui squiglie burocratiche quelle difficoltà quegli impedimenti burocratici che poi determinano dei problemi reali tari boom di richieste di aiuto al comune questo dimostra come molte famiglie si trovino in stato di bisogno il comune di pesaro ha concesso delle facilitazioni degli sconti sul pagamento della tassa sui rifiuti latari ed ora c'è un boom di richieste da parte delle famiglie sono 2600 le famiglie che annuncia oggi il resto del carlino vogliono pagare solo una rata e poi piazza del popolo ha messo sul piatto 200 mila euro alzando le soglie ise piazza del popolo e il comune di pesaro l'assessore pandolfi stiamo verificando chi ha diritto 273 sono i disoccupati che hanno attinto al fondo anticrisi che alleggerisce le bollette dunque uno stato di necessità che si allarga sempre di più ed ora diamo un'occhiata invece com'è la situazione del partito democratico a Cagli una situazione molto critica rispetto anche alle criticità che si rilevano nelle altre località della provincia Cagli dove il partito democratico ha ammainato la bandiera la sezione è senza luce e acqua le tessere non si fanno più mai viste Patrizia Sabatini che è l'ultima segretaria del partito di Cagli che si è dimessa un anno fa dice la giunta Ceriscioli ci ha mandato allo sbaraglio mettendoci contro il paese nessun altro ha accettato di prendere il suo posto lei è rimasta consigliere comunale e ora accusa siamo stati abbandonati siamo stati abbandonati dal partito a Cagli non si fanno più tessere del PD per tre ragioni non sono mai arrivate quelle del 2022 è obbligatorio pagarli con la carta di credito che gli iscritti storici non hanno e l'ultimo segretario cittadino Patrizia Sabatini di 41 anni avvocato si è dimessa nell'ottobre del 2021 per aver guidato il circolo dopo aver guidato il circolo per sette anni e nessuno l'ha rimpiazzata queste sono un po le tre ragioni e poi c'è un'accusa forte che viene rivolta verso l'ex presidente della giunta Ceriscioli il signor Ceriscioli dice appunto la Sabatini giunse a Cagli per ben due volte per chiudere l'ospedale la prima promise il pronto soccorso privato e tanti ambulatori e noi ci credemmo dicendolo anche alla gente la seconda volta arrivò di notte alle 23 per chiudere tutto e cominciamo ad avere dubbi sulle promesse che infatti non ne venne mantenuta nemmeno uno e questo è un simbolo della crisi che attraversa il PD ora in piena fase di riforma vediamo ora un articolo che riguarda invece un appello degli studenti e del Benelli di Pesaro caro prof torni tra noi lei eccezionale ed è un esempio di attaccamento dei giovani nei confronti dei loro insegnanti ci sono spesso degli episodi appunto di contrasto tra un insegnante e gli alunni ma questa volta c'è anche l'affetto c'è anche la stima c'è anche la considerazione ebbene il professore in oggetto è il professore Alessandro Guidi insegnante di sostegno all'istituto Benelli che è stato trasferito ad Urbagna e i ragazzi lo rivolgono lo rivolgono perché era un bravo professore ma soprattutto perché avevano intracciato un rapporto un rapporto che superava la linea istituzionale e invadeva la sfera umana la sfera umanitaria e quando c'è questo rapporto più immediato più diretto appunto la simpatia subentra alla così al rispetto istituzionale insomma e quindi lo rivolgono grazie a lei sono riuscito a riprendermi dalle continue distrazioni ha dichiarato Mattias Giseli e poi Nicola Rotondo e gli altri non ci ha mai fatto scoraggiare oltre a un bravo insegnante e un amico hanno dichiarato vediamo ora la pagina abbiamo finito il resto del Carlino e quindi possiamo subito dare un'occhiata anche al Corriere Adriatico partendo dalla pagina di Fano la pagina di Fano apre con la nomina in giunta a Cora Fattori ecco il titolo se rinomina in giunta Cora Fattori la consigliera di Più Europa firma questa mattina in municipio l'accettazione dell'incarico sostituisce Fabio Ratonelli ma c'è anche un rimpasto di delega vi avevo visto come subentrano i lavori pubblici a Barbara Brunori e i lavori pubblici appunto vanno al Brunori e poi c'è il passaggio al gruppo misto di Pedini invece in articolo di fondo abbiamo una presa di posizione di Lucia Tarsi di Fratelli d'Italia che nell'ultima seduta del Consiglio Comunale ha inviato una interrogazione sul fatto che la tassa di soggiorno e il ricavato delle multe e dei parcheggi dei posti macchina blu sul Lido e sulla Sassonia non aiutano affatto gli operatori turistici il turismo dà risorse ma non riceve opere ha dichiarato l'esponente dell'opposizione l'accusa di Lucia Tarsi per parcheggi multe e tassa di soggiorno ebbene la tassa di soggiorno ricavata nel 2021 dall'amministrazione comunale è poco più superiore di 200 mila euro 221 mila euro mentre 1.500 sono state le multe che sono state elevate nei parcheggi a pagamento che sono stagionali sono già decaduti quest'anno a Lido e alla Sassonia per un totale circa di 50 mila euro invece il ricavato di parcheggi a pagamento sono 100 mila euro insomma in totale tra tassa di soggiorno e parcheggi la cifra che l'amministrazione comunale ha incassato dovrebbe aggirarsi sui 400 mila euro e quanti sono stati invece gli investimenti sul turismo sulle manifestazioni a quanto dichiarato dall'assessore al turismo dovrebbero aggirarsi sui 250 mila euro quindi il comune ha incassato di più di quanto ha riversato nel settore questo è un po' il calcolo che ha fatto la minoranza parco agri voltaico un saldo fronte del no la provincia si danneggia il paesaggio ha dichiarato paolini convoca i comuni di fano e cartoceto a guzzi valuteremo ma non decide la regione ha dichiarato infatti qui è il ministero è il ministero che dovrà decidere dato che la fonte di produzione dell'energia elettrica è un problema di carattere nazionale e quindi vedremo alla fine come andrà a finire punto di primo intervento con posti letto di medicina a fossombrone fossombrone ha approvato un documento unitario vuole entrare nella rete ospedaliera l'avvertenza sanitaria a sostegno dell'ospedale di fossombrone sta imboccando una via unitaria una via solidale la via giusta dopo l'approvazione in consiglio comunale del documento redatto dalla commissione speciale interpartitica e quali sono le richieste appunto di questa commissione unitaria sono un punto di primo intervento presidiato da medici e infermieri in grado di accogliere i pazienti poi anche fare diagnosi e poter gestire in autonomia i codici bianchi e i codici verdi h24 e poi il mantenimento del servizio di emergenza urgenza una postazione territoriale di soccorso acqua 24 con ambulanza medicalizzata anche il potenziamento del comparto radiologico l'adeguamento dell'ambulatorio specialistico l'attivazione del reparto di postacuzie con riabilitazione dedicata poi anche l'attività l'attività del day surgery in ambito oculistico ortopedico eccetera queste sono le richieste di fossombrone mentre a cantiano è compromessa l'economia montana è urgente ripristinare le vie franate e siamo in conclusione ma prima di terminare la nostra rassegna stampa diamo un'occhiata anche alle notizie di sport dove purtroppo dobbiamo segnalare la debacle della vispesaro nel suo confronto con il pescara il risultato pescara 6 vispesaro 0 veramente una sconfitta pescara conferma la pochezza dei ricambi in mano a sassarini pesaro con la testa al campionato probabilmente non ha affrontato quella grinta giusta questo confronto l'alma intanto pesca tolentino a marcorde in coppa altro confronto con l'ex squadra di mosconi il prossimo 2 novembre e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa vi do appuntamento domani alle 7 per le notizie del giorno alle ore 20 30 con occhio alla notizia il tg di fanu tv questo per il momento è tutto a risentirci